Ad Adrano si avvicinano le feste patronali che quest'anno torneranno alla normalità dopo i due anni di pandemia. Il clou è rappresentato dalla volata dell'Angelo del 3 agosto con la recita della poesia a San Nicolò Politi. E proprio ieri nella Chiesa del Santo si è concluso il concorso L'Angelo della Volata, che ha scelto il bambino che il prossimo 3 agosto spiccherà il volo da Palazzo Bianchi. Si tratta di Marco Antonio Montalto, 8 anni, che succede a Nicola Neri. Che nel sorteggio ha pescato il bigliettino, sono io l'Angelo della Volata. Quest'anno è cambiata la forma della selezione. I bimbi hanno ottenuto i voti dei genitori che non potevano ovviamente votare per il proprio figlio. A questi si sono aggiunti i voti della giuria. Ne è venuto fuori un ex equo con 4 bimbi sui 19 iscritti complessivi e dunque si è reso necessario il sorteggio. Marco Antonio Montalto reciterà per la prima volta in pubblico la poesia al Santo Patrono sabato 2 luglio in occasione dell'apertura del mese dedicato al Santo Eremita.